e luigi sai che giorno è oggi giorno di posta esatto oggi risponderemo ad alcune delle vostre domande tra cui questa del piccolo johnny dall arkansas caro mario che odore ha dei tuoi piedi caro piccolo johnny presto arriveranno dei fantasmi nella tua residenza caro luigi come ci si sente ad essere il fratello inferiore fra i due da todd beh todd ogni tanto metto i suoi vestiti e vedo come ci si sente e poi volo con la fantasia capisci aspetta cosa luigi questo è troppo strano caro mario chi hai votato nelle scorse elezioni beh ho votato per ronald reagan perché penso che il suo servizio per la nostra società sia eccellente